Ciao a tutti ragazzi da Corso29, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di Dragonborn Xenon e sicuramente ragazzi siamo tornati a grande richiesta dopo un pochino di pausa a questo gioco e siamo con l'immordale di Satana al gioco di Seil e quindi ragazzi una storia così cambiata veramente il tutto ancora più interessante, davvero molto molto bello mi raccomando ragazzi, superata la serie con questo ritorno dopo qualche giorno con un bel mi piace e dopo devo anche fare dei chiarimenti riguardo le serie innanzitutto mi avete detto per esempio di continuare il video e lo continuerò comunque ragazzi dopo il quarantesimo episodio magari ci sarà qualche episodio speciale o comunque qualche altra modalità attenzione tanto qua non me l'aspettavo attenzione qua è adattato che non gioco quindi è difficile naturalmente allora no 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 dammi Satana, dammi Satana, dammi Satana un attimo ok allora mi avete detto che non vi piace molto il mio stile ecco perchè vado molto via però pararmi per me è risultato difficile nel senso che non ci gioco mai praticamente questo gioco quindi è davvero difficilissimo per me ragazzi poi vediamo di fare qualcosa mi avete detto un sacco di volte di usare la mostra speciale cosa che farò molte volte anche registravo naturalmente fino anche per quello che non potevo sempre seguire i vostri consigli allora cerchiamo di andare al meglio non so quando posso usare la mostra speciale sinceramente toglie un casino ragazzi posso usarla adesso? penso di si la uso ragazzi devo andare più vicino mi sa sembra se stai fermo perchè lo dico tanto di me ma ok la uso vediamo cosa farà di così tanto speciale non ho fatto niente e questo è il motivo per cui non ho mai usato più in questo tempo fa sinceramente molto schifo e molti di voi mi hanno dato dei consigli e sono contentissimo perchè è quello che vi chiedo molti altri magari fanno critiche ma principalmente o non hanno seguito il gameplay o non hanno capito il mio stile che fa altre robe che invece mi guardano il mio canale insomma che sto facendo? sta ancora aspettando oh capo adesso quindi sede da appunto di me è davvero difficile davvero difficilissimo vai vai Gohan no ragazzi è difficilissimo è che Cell è quasi morto potrei pensare a lui intanto col permesso Cell no perchè non me lo fai ah non avevo due di vigore peccato ok c'è Gohan adesso porca miseria su Cell vai che può morire Gohan può morire vabbè Gohan se può morire ci pensi tu se non può morire fa nulla allora noi adesso pensiamo a Mr. Satan ok quindi dammi Mr. Satan ottimo ci siamo ho dato la capsula porca miseria quanto ti odio Mr. Satan ragazzi odio la gente che separa tra quello non mi piace separarmi non voglio essere odiato perché non riesco ad andare via dai ragazzi è difficilissimo per me perlomeno è davvero durissima ragazzi devo usare tutte le capsule qua poi io non so pararmi infatti quanto mi toglie ogni singolo puno questa è una cosa assolutamente sleale poi tanti di voi ragazzi mi dite tipo di fare una sfida di quelle non so tot per riuscire a sbloccare quell'altra roba lì però ragazzi non è che abito tutto il tempo sinceramente quindi non posso tanto fare tutte le sfide vabbè o caso mai se volete ve la porto a una serie secondaria tipo le sfide parallele però dovete dirmelo voi capsula mega e via se magari mi fai fare qualcosa no anche se la adesso non ci credo ci voglio credere scappa scappa cosa vuoi fare ragazzi non posso avvicinarmi quando sei una mossa finale comunque anche per il discorso vi dicevo dei chiarimenti non vi preoccupate uno zoom ci sarà però come ci sarà il video ci sarà ok non vi preoccupate ogni cosa a suo tempo però ragazzi mamma mia era un po' mancata dico la vera questa mossa mi era mancata ma dai via da lì che rabbia ragazzi già fosse uno forte freezer ma è mister satan quello che fa ancora più arrabbiare dai fai sta mossa contento ma per chi io schiaccio x ragazzi e si para maledetto che sia mi ha detto anche di fare lo scatto qua e poi andare col quadrato adesso provo ok bello un po' l'ho colpito generazione lasciami scappare almeno amico mio è che ti manca poco sì ma caro Korad prendilo magari e basta in faccia diretto dai 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 non manca niente dai che sofferenza però ragazzi non si può sfruttare ho usato tutte le capsule porca miseria oh non c'è più miss satan mi sono male salvataggio ragazzi ho usato un sacco di capsule buono vegeta che ho fatto il massimo oh mamma mia che fatica questo gioco davvero duro eh ragazzi diciamo che la difficoltà è per stabilità ci sono i cosetti i cosiddetti cosetti devo schifiggere 6 saliuni o qualcosa mi dice che già mi andrà male non sto facendo niente ok andia it's your turn Niente! Tu...perbaCHÌ! Quella dei bambini, ciò che non mi ha fatto. Tò chiamà. Non c'è di chiamo, sui lonti di tutti! Ma'uno è molto forte. Mi dimenticato, ciò che non si non si può poi giocarla. Certo, loro si è molto picante, ma ricordatevi, loro sono ancora dei bambini di mio. Ok Ammazzati 3 Teoria Attenzione Ah avete visto? Qualcuno l'ho fatto arrabbiare Qualcuno dei Xenors Eh infatti non sembra così buono Attenzione ragazzi Aiuto sono da solo adesso ragazzi Già abbiamo usato una capsula Eh ci sarà ancora più difficile da solo Senza le altre è più che Gli altri Tenzing e Yam c'è più che altro Non erano di aiuto Nel distrutto prima Facevano un po' da isca no? Non c'è adesso niente Ragazzi è difficilissimo Ho già preso tutte le capsule Non ho più possibilità Non posso sbagliare Invece ovviamente Mamma mia ragazzi Che tensione No mi ha preso Ha preso anche me Quello di Cell Non ci posso cadere ragazzi Non è possibile Non è possibile La sfortuna che ho Non è assolutamente possibile ragazzi Perdere così in fondo E il terzo Sarebbe Mi ha preso in giro A dire poco Niente ragazzi Non ce l'ho fatta Ragazzi sono distrutto In ogni senso Sia psicologicamente Che fisicamente Non penso di farcelo in questo momento Come sono messo Dove fare un bel po' di allenamento Off camera Perché veramente Nel sento il bisogno Forse anche in teoria Posso bloccare anche Il super saiyan E sarebbe il caso Perché veramente ragazzi Non ce la faccio Avete visto Devo esercitarmi sia come esperienza Come Avevo abilità Sia proprio come Forza del giocatore Ecco Quindi Ragazzi Mi serve un po' di tempo Fatemi sapere In i commenti Se vi andrebbe Magari come Video bonus Una serie In cui mi alleno Quindi facciamo Tutte le missioni Secondarie Quelle Come si chiamano Quelle Non online Adesso non mi viene Mentre il nome E fatemi sapere Insomma Perché potrebbe essere Davvero molto utile Per andare avanti Insomma Per allenarsi un pochino Perché così ragazzi Non ce la faccio Sono arrivato fino in fondo Con tutte e quattro le capsule Che avete visto E purtroppo ho avuto Un colpo di sfiga Però adesso I miei nerdi Mi dicono di no Perché non mi va Quindi fatemi sapere ragazzi E un saluto di rosco Non ci do no Aspetta qualche dritta Ciao 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 ciao